Di Gianni Fucci forse è un errore. Forse è un errore dal momento che stai attento ai fremiti del vento che porta a chissà dove il tuo tormento e tutte le cose che stanno nel proprio mistero come le rose. Lo so non è nelle cose che ha origine il male. Occorre capire, credere all'amore, combattere il dolore. Ninetto non ha più difetti, è troppo vecchio. Per lui non è più l'ora. Adesso guarda con quei suoi occhietti tutto ciò che si tramuta in polvere. E gli altri?